Lorenzo, sei qua? E fiscia! Ok, prepara. Allora, io come ho fatto l'anno scorso per gli allievi, l'ho già fatto a te di Mata, io formalmente ti ho nominato Capitano Industria, io lo compito con questa fascia personalizzata, portalo con onore, dai carica sempre ai tuoi compagni, sia nel rispetto anche dell'avversario, eccetera, dell'avversario, è faccia che lo porti con onore, dovete uscire tutti quanti, compreso il Capitano, lo dovete seguire, dovete uscire con la maglia iscritta di sudore, potete anche farlo, basta però che date tutto, va bene? Questo ce lo faccio. Stai entrando l'arbitro, eh?